Hello boys! Eccoci, 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 eccoci! Che si dice? Intanto abbiamo salvato la panchina che è già... che è già o no? Devo dire, è un traguardo meraviglioso che non credevamo di poter realizzare Tutto si è stabilizzato, tutto si è tranquillizzato Abbiamo un gradimento di rigenza che è la bellezza di... la bellezza di... Dove sei, gradimento? Esci fuori! Fatti vedere, non aver paura! 62, signori! E allora, io vorrei partire... vorrei partire con una cosa importante Il discorso degli ingaggi Allora, alla luce di quanto detto nell'ultimo video Quello in cui abbiamo fatto un po'... abbiamo strapagato certi giocatori Ma va bene così l'euforia post-promozione Vi comunico che non ci saranno più dei tetti... cioè non ci saranno più un tetto ingaggio Suddiviso per tipologie Ma avremo un unico tetto ingaggi Che non ci obbligherà a dare a tutti coloro che ricoprono il ruolo cruciale la stessa cifra Ma appunto il tetto oggi è 13.000 euro E oltre questo non andremo chiaramente... se dovessimo salire ci regoleremo di conseguenza Però diciamo che adesso i cruciali hanno 13.000 Poi in caso di adeguamenti chiaramente saliremo Ma vorrei evitare che ci sia l'obbligo di dover pagare tutti quella cifra lì Anche perché appunto giustamente tutte le squadre hanno i top player strapagati e poi il resto Quindi abbiamo un po' più di stabilità da quel punto di vista Allora noi ci manca Ci manca un difensore centrale volendo da turnover O una promessa E dovremo vendere watt Per prendere un cdc turnover Ci manca un esterno turnover Ci manca un coc turnover E basta Diciamo che questo è il grosso che dovremmo fare oggi Quindi diversi acquisti Ma siamo messi 5 milioni Spero che se ne possano incazzare altri Allora gli diamo... ti posso mettere turnover? L'accetta Signori lo accetta Quindi che non ha rinnovato ed è turnover Abbiamo anche risolto un mezzo problema Vabbè andiamo a fare la prima partita del campionato Così poi vediamo un po' il da farti Dunque Nessun imprevisto Ale Signori è il momento della verità Hanno già battuto Io ero distratto Protesto Vorrei evitare di avere un'altra annata devastante Tipo la precedenza Cioè vorrei un anno facile Se si potesse avere Non è che ogni stagione da contratto Io devo soffrire le pene dell'inferno Cioè se può anche una volta ogni morte del papa Fa una stagione facile Che vinciamo con 20 giorni d'anticipo Bravo Fontaine Sono tutti marcati però Bravo Fontaine Guarda Aaron Ti prego Ma perché lì? Guarda quest'arte Don't touch my job Per cortesia Bravo Barnett Ti prego Puntel Iniziamo così Iniziamo così Iniziamo così Il primo razzetto dell'anno Il primo razzetto dell'anno Comunque Barnett ha fatto Ha fatto una cosa bellissima Mamma mia che puntazza Orribile Che puntazza orribile Fontaine Ti vedo Ma che cosa bellissima avete fatto No Che cosa bellissima avete fatto Fontaine ancora Vabbè Che comunque 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 devo dire Questo Questo Lexham Gira La calcia in profondità Ma che Ma che cazzo In presa diretta Sembrava una roba Surreale Dobbiamo seguire Fran Jess Dobbiamo seguire Fran Jess E Ancelo Fuori gioco Pizzignacco Ma dove cazzo Non la va Pizzignacco Ma perché Ma perché Ma dove cazzo Non la va Secondo tempo Non abbiamo Bravissimo Coso Vai coso No Parti 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 Paolino Paolino I see you Paolino Ma no Così Vai Paolì Ma lascia la morte Ottimo recupero Della tre quarti Avversaria Paolino No Paolino Tira una stecca Paolino Ma che cazzo Vabbè Niente De piatto Ha tirato De piatto Io non ci credo Ha tirato Di piatto Ha tirato Di piatto Ha tirato Io non ci credo Ha tirato Di piatto Perché ha lasciato fuori I bandi Perché è turnover Perché è turnover Posso dire che Laura è league one Un pochino Lo vogliamo dire Edwards è Diciassettenne Edwards potrebbe Subentrare come Vice job Si Paurissima Gioca con il 5 4 1 La difesa al minimo Dalla profondità Li mortacci Maledetti Maledetti Massepaggio Che ha così Adesso Ecco Ora Vivrò Tempo A dietro Quando parlavo Della Juve D'altra gente Mi ha detto Ah tu La fai facile A parlare Di Allegri Così bene Mica te lo allena Il tuo team Ecco Adesso sperimenterò Cosa vuol dire Avere Allegri In squadra Realmente E' veramente Terribile Io vi voglio bene Ma è terribile Ma se mettessi Patella a tutto campo Non lo fa Bene Va bene La iniziamo così La iniziamo così Poi Dio provvede Poi Dio provvede Ci portiamo Mendy in panca Che se la corre Non c'è nessuno Davanti Aiuto Con calma Signori Con calma Guarda man Vai da solo Allegri style Ah Bravissimo Cosa Cosa in fascia Cosa spallate Violente Bravi Bravi Edwards Niente Non ci credo Era bellissimo L'inserimento Di pesa al minimo Ma stanno al centro campo Aaron Fatta la tutta Aaron Tutta tutta Aaron Tutta 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 Sì Sì Mazza che sgroppata Alexandro Per la dica Alla Alexandro Mamma mia Che classe Che classe Little Aaron Sto schermo Sto schermo è una bomba Davvero Sto schermo è una bomba Davvero Ma io non ci credo Ragazzi Io non ci credo E adesso Tutti dietro A difendere A difendere Il fortino Il fortino Ancora Tutta tutta No Edwards Bellissimo L'incrocio La prima di Paolino Mamma mia Che pigna Che ha tirato Anche il Liguano Paolino Paolino La prima di Paolino Sembrava quello Cassinato ieri Con la Turchia Iera Quello Il giovane Della Juve Bella palla Di Edwards Comunque ammazza Sto schema Edwards Guarda Edwards Quante Quante proposite Apri tutto Ma bravissimo No Coso Nimein Ha corpo morto Sul nemico Bravo Nimein Posso Posso riavere Nimein Perché Nimein Ha mollato il colpo Dopo Dopo quell'assalto Feroce Era bellissimo Te lo meriti Te lo meriti Edwards Te lo meriti Te lo meritavi Te lo meritavi Calma White Mamma mia White Cosa aveva fatto Rossella No White La mette Non mette sempre Il sigillo Il piccolo Walter Il piccolo Walter Hai capito White Hai capito White Comunque raga Schema da vita Sto 5-4-1 Io non vorrei Di Say my name Ha segnato Say my name Raga Possiamo Qualcuno si offende Se simuliamo La Carabao Ci giochiamo solamente La FA Cup Quest'anno Però vediamo gli obiettivi Un attimo C'avete ragione Scusate Vorrei Fa un dramma Prima squadra Questo ok 10 vittorie Siamo già a 1 FA Cup L'FA Cup Dobbiamo fare L'FA Cup Ragazzi L'FA Cup È importante Il resto No Quindi Qua Il panchinaro Chiaramente Perché abbiamo Previsti di ingaggio 3-2-1 Video non superato Benissimo Quindi Philips È ufficialmente Saltato 50-50 Dai Prezzo futuro 2-2 Niente Rivendita 2-2 Cioè 2-5 No Ma 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 Parliamone Bete In prestito Potrebbe Essere La Soluzione Avete Ragione 50-50 Va Benissimo Tra Due Anni Quanto Gli Do Ambede Se vuoi venì Te vado Venì Ci vieni Dai Devi partire 3-2-1 Oh No Questa è la prossima Chi è che Stai stirato 16 Chi sei 12 13 14 15 16 Barnett Vabbè Ce ne faremo una ragione Andiamo Oggi Oggi Patel Redemption Arc L'ennesimo Patel Ha acceso il razzo Ha acceso il razzo Difendono benissimo Patel mio però Patel mio C'avrei pure il razzo Patel mio però Meda Medaier Terzino Medaier Terzino Grazie No Pizzignacco 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 Patel Patel Guardaron Ho esagerato Ho esagerato Ho esagerato Vabbè Mi ero Mi ero immaginato Un'altra cosa Non è andata esattamente Come nei miei sogni Che la rimette in mezzo La rimette in mezzo A chi Patel Sai dove ti trovi Sai che giorno è oggi Patel Ma cos'è Sto schifo Ma cos'è Sto schifo Le idee ci sono Mancano i piedi Signori Vabbè Davanti Ragazzi Siamo un po' In difficoltà Davanti Le cose Non vanno Come dovrebbero Allora Dentro Con le oscio Dentro Edwards Bravo Bravissimo Pallo gamba Ci piace Patel Accendi Sto raggio Patel Accendi Sto raggio Patel Il raggio Accendilo Accendilo Patel Accendilo Accendilo Ha fatto finta Con le oscio Ah E' tua E' tua E' tua Yes Paolino Paolino for the win Sempre Paolino Sempre Paolino Sempre Paolino Che ci leva Dalle situazioni Caolini più 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 complicate Ancora Paolino Scatenato Paolino Ah Perché Taci allungata Paolino Con le oppio Apri tutto No E' bellissima Patel 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 Perché Patel Why Patel Che cazzo non è Patel Ancora Noi siamo bravi Sulle palle Sulle palle No non ci credo Noi siamo bravi Sulle Palle Eeeh Addirittura Provaci Tu credici Niente Dammi 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 Rossella Dammi Rossella Dammi Rossella Mamma mia pizzignacca Cambi Cambi Ma no Non si legge più in piedi Entra lì Ma lì Ma perché non Perché non puoi farlo Fai il cdc Ali Fai il cdc Eeeh Mendi Mendi alto Mendi No Con le oppio Che miseria Halo Alla inzaghi Alla inzaghi I terzini I terzini Abbiamo Abbiamo dei problemi Mister Torni indietro Se no la cacciano Mortarci Mortarci Vosso Però Chi è Chi è il maledetto Che non è startato Chi è Che è rimasto immobile Mortarci tua Chi è Chi è L'uomo è rimasto Fermo Chi è Hanno sfruttato Questo calcio D'angolo La perfezione Trovando il gol Come dimostrano le immagini Il portiere Non ha davvero Potuto nulla No La lisciata Con le oppio Passano dunque A condurre In questo finale Rete pesantissima È partito Patel Guardalo Guardalo No Aveva fatto Aveva fatto Una cosa Aveva fatto Una cosa Ragazzi Cioè Aveva fatto Una cosa Spaziale Ragazzi Spaziale Pizzignacco In the box È sempre Lui È sempre Lui Incredibile Incredibile È sempre Lui Ma chi è che batte Sti calci d'angolo È Aaron Portacci Che colpo De testa Mamma mia Paolino Mamma mia Paolino Signori Vabbè è finita Devi fischiare Devi fischiare Grazie Mamma mia Paolino Che cuore Che emozioni Paolino Che emozioni Paolino Luke Mbete Mbuti 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 Su Rexham Channel Allora È perfetto Per il 5-4-1 Mbuti Dentro Mbuti Subito Subito Dentro Subito Dentro Mbuti Allora Intanto Prepartita 3 2 1 Niente Andiamo così Dai Vai Tu fregatene Tu sei Heisenberg Tu puoi tutto No Bravissimi Mbuti Posso avere Mbuti Mamma mia Mamma mia Tu lo fai Tu lo fai No Vabbè Primo tempo Si soffre Si soffre Si soffre un po Edwards Vatt Un po' così Però non c'ho cambi L'unico è Price Con 69 di velocità Te la senti? Dice che se la sente Dice che se la sente Se la fa tutta lui Se la sente Ha detto che se la sente Non mi preoccupare Mi segna coprire da plastica Ricorda i bei tempi Di Bartes Bella Arriviamo Arriviamo in ritardo Su ogni Fottutissimo intervento Guarda quest'altro Importa Pintignacco Niente Io non c'ho parole Vabbè Non è Non è al massimo Meglio Posso dire meglio Perché ci avrebbe veramente Stravolto tutto il mercato Un'eventuale Svolta Siamo lenti Madre santa Quanto siamo lenti Partito Tutto vero E giovane Ma sempre sul più bello Ma sempre sul più bello E ancora Cerbo E ancora Cerbo Ragazzi E ancora Cerbo Percellarli giocate Sul Sulla preparazione C'è E sulla conclusione Che è una pippa cosmica Mamma mia Vabbè Pizzignacco Figurina Pizzignacco Oggi Va considerato Sto modulo Ma non può essere Una 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 costante Ora Ora non No Ora no Non è Vabbè Meglio farli adesso Se esperimenti Meglio Farli Ora Ok A una padella Ma non giochi Ma sto sempre Stanco Però Che cazzarola Che palle Sta in debito L'ossigeno Perenne Io se non riesco Non riesco a vendere qualcuno È un disastro C'ho anche C'ho anche l'obiettivo Della gestione Di un importante Vatt Doveva andare via Fai via Se non esce Laura Io non posso Prendere nessuno Contrattura E che cazzarola Veronimo Uno Pizzignacco Benissimo Due Senza Pizzignacco Ottimo Non c'è un portiere Di riserva Che gioia Serve un portiere Di riserva Non l'abbiamo Neanche in primavera Certi amori Non finiscono Lassibile Eccolo Io ti riporto a casa Rob Ti riporto a casa Prof Ti riporto a casa Prof Però Però 200.000 Dai La rivendita Qui Dai Molla Molla Dai Su Fa il serio Che te so Fa un favore Su Che te so Fa un favore Bene Dai No Ma che Ma che Fa l'affare Ma chi Ma chi Vuoi scambiare Allora Imprevisto Io mi lancio Contro lo spigolo Imprevisti Di ingaggio 3 2 1 Nessun problema Ok Fidatevi Le para tutte Voi date retta È Baggato Ve lo ricordate Che era baggato Le parava tutte E non abbiamo avuto Abbiamo avuto 800 portiere Era l'unico che parava È come McDonald È una pippa Ma lui non lo sa Ragà Lo so che non ha senso Ma c'è qualcosa Che ha senso In questo gioco No E allora Date retta Fatemi servì Fatemi servì Il gioco è progettato Da agenti del caos E dunque Dobbiamo adattarci A questo flusso Di caos Se vogliamo Se vogliamo Sopravvivere Scommettete Che ne para tutte Oggi Lenton Scommettete Quanto scommettete Eh No Trusty Io sono sicuro C'è spazio Attenzione L'aveva preso No Ok L'aveva preso Trusty Proprio tu No Al primo pallone La vendetta Di Trusty Il clown Non ci credo Non ci credo La vendetta La vendetta Di Trusty Vabbè Ma lui farà Delle parate Fondamentali Oggi Voi non ci credete Ma Ma accadrà Lo dico io Fidatevi Fidatevi Eh Già Beh Eh Ma Ho segnato Ma Ho segnato Arbitro Ho segnato Avevo segnato Non serve Il rigore È il remake De Roma Juve Ma Ma io Ma io Avevo Ma io Avevo Segnato Avevo Paolino Paolino Non c'ha bisogno Di aiuti Non ne ha bisogno Non ne ha bisogno Entra 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 Bene No Non è possibile Non è possibile Calma Vai in mezzo Ma che Ma che Ma che Cazzo fa Scusate La pesa con tutte e due i piedi Ecco qua Addio Addio Signori Qua possiamo L'hypermotion In tutto il suo splendore Guarda Guarda Ma tu Entra Questa Mi sa che Entra Tutta Il piede Regale Il sinistro Mi prego Guardate Il sinistro Non ce la faccio Ecco qua 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 si è Il momento Qui si Si riattiva Mamma mia Ragazzi Riprendi Sto Tropezio Per favore Ecco Bene Va benissimo Vedi che Succede A far I giochi Eh Che Che Ma chi Ma cosa è successo Pronto Allò 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 Che Non capisco No Non ci credo Mamma mia Mamma mia Che ride Che ride Ma no Che ride È una cosa incredibile Questo gioco A volte Io Giuro Non potrei Vivere senza Sta roba Ormai È una sorta Di guilty pleasure Io non Non posso farne a meno Di questa follia Di questi Se Se Cioè Se fosse Se fosse Se fosse volontario Farebbe molto meno ridere Tutto questo Quindi Grazie a No Che Ma che partita è Ma che partita è Ma il fallo di mano è suo Ma il fallo di mano è suo Scusate No Scusate Ma che Taglio no Non se può Non se può Dai raga Così è troppo Cioè Così è troppo Così è troppo Così è troppo Dai ragazzi Cioè ma Siamo Siamo a livello di follia Veramente Inarrivabile Cioè Cioè questo Allora Io Io qua La La palla La palla La Cosa la tocca? Di gomito? Sì Non la tocca Però Però poi lui Non contento La fa Uno Due E poi Mamma mia Mamma mia Però fai il tuo momento Prof redemption Te la para Te la para Te la para Lo sapevo 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 Ero certo E butta via Sta palla Vai Vai Accendi Ma quando L'accendi Il razzo Se non Aia Mamma mia Con calma Con calma Un primo Un primo Tempo Un primo Primo tempo Abbastanza Peperino Devo dire Patel Non ce la fa più Ma non importa Come scusi Eh Eh Dunque Io butto Detto Mendy Va bene così Va bene Va bene così Ed è un tempo solo Quello abbiamo vissuto Mi sembrano 20 partite Per la stanchezza Che provo A livello mentale Vai Giobbe Giobbe Con una bruttezza Cosmica Questo Questo gol Stop Horribilis Stop Horribilis Stop Horribilis Possiamo rivedere L'azione che ha portato Il gol Tutto è partito Da questo cross Davvero un'ottima assistenza Mamma mia Giobbe Se sta ancora È scoordinato Ma Quanto è scoordinato È buona Patel 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 A Patel A Patel A Patel A Patel Mamma mia Patel Patel Nel senso che Devano a giocare A Patel Minnascia Non c'è forza Ragazzi Non ha forza È scarico Patel Ancora Patel Oh Va bene Va benissimo Va benissimo Così Va benissimo Mamma mia La stecca centrale Mamma mia La partita più bella Di sempre Con questa Veramente La partita più bella Di sempre Allora Paio dei cambi Ali Patel Non ce la fa più Dentro Edwards Abbassato Un pochino Oh Possa V Possa V La T Grazie Molto Umano Ok Ma perché Sempre sta minchiata Che dovete fare Ogni tre Ogni tre secondi E mollalo Grande prof Vedete 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 Uomini di poca fede Uomini di poca fede Vedete Eh Date retta Il prof è tornato Per insegnare Come si para Bravo Prof Ancora Calma Ammazza Quanto è grossa Lì Ma Ali Ma dove sei Il medianone Perfetto Fate vedere Fammi vedere Un po' Ali Niente Oh Bello Medianissimo Questo Bella la palla La classe La leggiatria La tecnica Giobbe cosa fai Non ti mette pure Ti va a fare Vabbè Niente Bene 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 Grande Giobbe Giobbe Dopo quella Botta in testa Ah Segreto Il fratello Ho capito La La botta in testa Gli ha fatto Crede di essere Giud E non Giobbe Non glielo dite Però Mi raccomando Mantenete il Secreto Mantenete il Secreto Vi prego Mantenetelo Lui si crede Giud E noi Lo continuiamo A convincere Che sia così Va bene Va bene L'importante È il risultato Bravo Messie Fontaine Messie Fontaine Numero 1 5 minuti Alla fine Della partita Ti è Ti è No Ho messo Le fuori gioco Te l'ho già spiegato L'altra volta Niente Vabbè Quest'arto Gli evade D'acqua Ma chi sei Bonucci T'hanno pure Sbustato Arus Ennamo Eh Su Bene Mamma mia Che parto Sta partita Porca miseria Un incubo E un paradiso Dipende da che prospettiva La si vuole guardare Bene Ragazzi Non so cosa fare Arriveranno offerte Prima o poi Non lo so Comunque Se arrivano offerte Io mi sa che Vabbè Che possiamo L'opera più avanti Tanto so Sono due anni Sì ma scambia Di cocchi Non può venire nessuno E tra me è quello Non può venire A parte che per obiettivo Dobbiamo venderli Gli importanti E quindi Cioè Devo vendere Cioè Ci permetterebbe Di comprare L'obiettivo Sia Palmer Che cosa Che Che VAT Ragazzi Niente Io per adesso Vi ringrazio Infinita Mount E noi ci becchiamo Mercoledì Episodio Probabilmente registrato Per cui ragazzi Un bacione Buona serata E grazie Davvero di cuore Ragazzi Un abbraccione Abbraccione Grazie a tutti.